Buongiorno a tutti carissimi della IAS e quanti seguiti. Sono in un posto particolare, accanto a me c'è Donna Rosalba e Donna Angela. Io le donne le chiamo sempre così. Lei è una sorta di rappresentante dei genitori. Lei è una eccellente a destra di Celi Cavalli. Infatti io mi trovo presso il centro ariano, nel team franco-ariano, quell'uomo straordinario che insieme a me preparano i cavalli per la cinematografia. Ma voi mi chiederebbe, scuso Nofre, non dovevi essere ad Aprilia? Sì, anche se è passato Aprilia, Maggio, Giugno, a Luglio non sono ad Aprilia, ma sono proprio qui vicino a Cinecittà. Perché in effetti io sono stato ad Aprilia, perché mi ha chiamato una giovane mazzo, i minorenni, quindi non la posso pubblicare, per la sua cavalla che invece è qui. Quindi una PSI molto bella, se fosse visionabile nella sua interezza. Quando sono andato in un centro quest lì ad Aprilia, perché questa ragazza che a 13 anni si è conservato i soldi perché voleva con Onofre fare un lavoro per 7-10 giorni, abbiamo trovato una cavalla, scheletro, pelle rosse. Così come in quel centro tantissimi cavalli sono pelle rosse. L'occhio dei cavalli non era per nulla sereno e tranquillo. Risultato finale, il papà di questa ragazza ha deciso di portare via la cavalla da lì e non sapremmo ne portarla. Io mi sono permesso di uscire in questo posto, perché questo è un posto dove i cavalli non solo vengono appassati benissimo, ma mangiano anche tanto. Se il camera adesso mi segue, vi faccio vedere ad esempio che meraviglia è il cavallo che c'è qua. Poi, guardate, vieni qua a boccia. Questo è un KVPN grigio portastello. Guardate, guardate che spazialità di cavallo. Ben nutrito, ben lavorato, ben muscolato. Ancora, vi potete far vedere Duca, che è un bellissimo murgese. È tutto in diretta, quindi il tempo di chiudere. Ci vediamo dopo. Ne a vedere Duca, che mi accompagna a Duca. Ecco qua. Viene anche Donna Rosalba. Ok. Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia il cavallo. Ma dovete vedere? La croppa ce l'ha a forma di cuore, un collo possente, lavoratissime e ben alimentate. Ok, amore. Allora, e così tutti i cavalli. Lì c'è Spastaco, lì c'è Tasmania, lì c'è Alphio. Guardatelo da dietro. Adesso, mentre siamo qui, se il cavallo non si mette da quella parte, vi faccio vedere che cosa esce fuori. Esce una spremia mazzone che si chiama Marta, con la PSI di questa ragazza. Un po' più avanti. Alta. Pelle e ossa. Costole. Tutta la corna vertebrale che si vede. Queste sono le ossa. Guardate la spira scapolare, si vede tutto. Dovrebbe essere nascosto dei muscoli. Guardate questo muscolo, questo collo pieno di contratture. Ebbene, pensione pagata mensilmente con puntualità. Alla fine, quando ho chiesto il primo giorno, ma cosa mangia questa cavalla? Mentre il cameraman è e resta qui, io vi faccio vedere cosa mangiava questa cavalla. Resta felice, arrivo subito. Questa che vedete in mano si chiama sassola o sessola. Allora ho chiesto cosa mangia? Una di queste, ma ho detto una di queste, mi sembra strano. Mi ha detto l'uomo di scuderia di là, di questo centro di aprile. No, una di queste. Questa era ciò che mangiava. Una di queste a pranzo e una di queste a cena. Di un mangio un po' più scuretto. I cavalli non si trattano così. I cavalli si trattano molto molto bene. E a Rosalba che è in questo posto, con Marta e a tanti altri genitori, dico, quando i cavalli non vengono accuditi, nutriti e tenuti bene, state attenti, cambiate posto, dite ai proprietari che non va bene. Perché questo non è un cavallo che siccome è stato un pochettino fermo, perché aspettava che arrivassi io, si può durare così. Questo è un cavallo a cui manca la pappa. La pappa è l'energia. Senza energia il motore non funziona. E si rischia che i cavalli muoiono quando si riducono in questo modo. Con questo è tutto. E il prossimo video lo vedremo quando io andrò via, perché starò sette giorni qui, adesso, in zona Cinecittà, e non andrò più in quel posto di merda. Scusatemi, ma io sono un uomo sereo di cavalli e quindi quando un postaccio è un postaccio, tale è e tale resta. Continuate a seguire. Ciao.